Sono Angela Prudensi per Fred Film Radio, 19esima edizione di Alice nella città e do il benvenuto a Francesco Montagnè. Grazie, grazie per l'invito. Francesco, sei qua perché presenti in Panorama Italia il tuo film, perché non voglio chiamarlo documentario, io ormai chiamo tutti i film, Brotherhood. Si parla di fratellanza, quindi insomma il tema è quello. Infatti i protagonisti sono tre fratelli, Jabir, Usama e Uzair, sono tre fratelli bosniaci, sono dei pastori, vivono tra le montagne, immersi in paesaggi meravigliosi, devo dire. Succede qualcosa nelle loro vite, per cui si ritrovano da soli a fare i conti con un'età particolare, quella del passaggio a un'età più adulta, diciamo da un'adolescenza, una presa di coscienza di quello che potrebbe essere il futuro. I tre fratelli, essendo appunto un film che si basa sulla realtà, è la vera storia di questi tre fratelli. Ecco, come li hai scoperti e perché hai deciso di fare un film proprio su di loro? Quando ho visto un reportage italiano di servizio pubblico nel 2015 ho visto questa famiglia che compariva nel reportage italiano, che seguiva una storia di radicalismo islamico del nord-est. Non mi ricordo se adesso era un personaggio, una persona veneta o friulana, che è di nazionalità anche bosniaca, che si era radicalizzata e era andata in Siria raggiungendo le file dell'ISIS. In questo reportage il giornalista italiano ha seguito questa storia personale di questo signore e l'ho portato in Bosnia, l'ho portato a cercare di predicatori radicali, tra cui è comparso in questo reportage anche il padre. Mi hanno subito colpito questi tre figli, questi tre ragazzi giovanissimi che avevano, al posto di diventare calciatori, volevano diventare tutt'altro, comunque avevano degli ideali legati a questo tipo di radicalismo islamico che noi già parzialmente conosciamo e quindi non capivo. Non capivo perché di ragazzi, tra l'altro pastori, che vivono in un mondo rurale, in un mondo anche contadino, con delle radici fortemente antiche, fossero interessati a delle tematiche tipo radicale. Perché? Da dove veniva questo fenomeno? E quindi ho deciso di incominciare questo film andando lì a conoscere la famiglia, a conoscere il padre, cercando di entrare lentamente in questa comunità, in questa enclave religiosa particolare, che ce ne sono poche in Bosnia, però sono molto forti, sono molto secluse, per dare delle risposte a delle domande importanti che avevano. Come ti sei avvicinato loro? Perché non è, credo, semplice, no? Entrare, hai detto tu, non clave, non è facile, guadagnare la fiducia, ecco. Certo. Quello è stato un lavoro di tanti anni, perché poi il film è il risultato di quattro anni di riprese, quindi quattro anni di esperienza, di vita, in cui costruisci un rapporto passo passo. Ovviamente quei ragazzi li ho conosciuti anche ben prima di iniziare le riprese, abbiamo parlato, ho cercato di capire le loro vite e anche con rispetto, rispettando le loro decisioni di vita, giuste o sbagliate che siano, cercando anche sempre di mettersi nei panni degli altri, quindi nel loro modo di vedere le cose, per cercare una prospettiva altra, per cercare anche delle ragioni, no? Che spingono magari, in questo caso il padre, non i ragazzi, perché ovviamente i ragazzi sono degli adolescenti, non sono dei radicali, ma che spingono anche il padre ad aderire ad un certo tipo di mondo che noi non condividiamo. Quattro anni sono lunghi, in quattro anni le persone cambiano e ancora di più cambiano dei ragazzi. Immagino non sia stato per niente facile scrivere su di loro il film, perché cambiando le loro personalità, probabilmente anche i loro desideri e quello che hanno immaginato per il loro futuro, tutti si è dovuto adeguare. Ecco, come hai lavorato su questo? Beh, abbiamo lavorato anche molto con Alessandro Padovani, con il cosceneggiatore del film, cercando di seguire la linea naturale dell'evoluzione della loro adolescenza, senza mai... è un documentario, cioè un film documentario, quindi tutto quello che noi vediamo è frutto di una realtà, di sentimenti veri e propri che i ragazzi hanno. Il mio unico ruolo è stato quello di guidarli e di spingerli ad esprimere queste emozioni, anche perché come uomini che vengono da una comunità radicale, religiosa, con un padre molto patriarcale, esprimere emozioni per loro è sempre molto complicato. Quindi l'unico mio ruolo è stato quello di spingerli a tirare fuori queste emozioni, anche in un modo anche partecipativo, cioè magari pensando anche a delle scene, non molte in realtà, perché comunque è un film molto d'osservazione, delle scene dove loro potessero davvero esprimere quei sentimenti che tenevano dentro da tempo, che ovviamente quattro anni è un periodo lunghissimo per un adolescente, e soprattutto un adolescente che cresce senza una guida di un genitore. Ecco, si dice che il vero lavoro di scrittura in un documentario arriva alla fine, quando arrivi al montaggio è vero, insomma, diciamo la verità. È verissimo. Ecco, quante ore di girato avevi rispetto a un film che ha una durata standard? Beh, avevamo all'incirca 100 ore di girato, e quindi abbiamo fatto una prima fase di premontaggio, che è durata all'incirca nove mesi, un anno, e poi abbiamo cominciato il lavoro di montaggio più complesso, e più drammaturgicamente più complesso, con Valentina Cicogna, quella montatrice, che è durato anche lì sulle 14 settimane, all'incirca. È stata una questione molto personale, anche di come io e Valentina vedevamo i personaggi, come sentivamo le loro storie, anche perché in quattro anni di vita ci sono un sacco di avvenimenti che possono essere raccontati, ma non tutti partecipano davvero all'evoluzione di una persona, quindi è stato importante trovare un punto di vista forte, e decidere che proporzioni dare, poi tra l'altro alle storie di tre fratelli, perché ognuno doveva avere la giusta proporzione nel film. Con un'ultima domanda, che è di carattere generale e non cinematografico, se è un'età ingrata all'adolescenza, ovunque nel mondo, quanto è dura per chi vive in quei contesti? Il film lo dice, però ecco... È molto complicato, è un periodo molto complicato, perché ha già le complessità proprie dell'adolescenza, quindi di crescere, soprattutto anche crescere come uomo, secondo me, perché se io che è il direttore della fotografia, penso ci siamo legati, abbiamo molto capito a livello intimo, a livello quasi viscerale questa storia, perché anche noi, da adolescenti, ci siamo sentiti un po' inutili, perché la figura del maschio nella nostra società è quella di o bambino o di uomo, e quando sei adolescente, quando sei in questa forma mista, ibrida, e quindi non hai né la dolcezza che ti viene associata con l'infanzia, né hai quel rispetto che ti porta alla maturità. Quindi per loro diventa ancora più complicato quando, sai, hai un padre in prigione e cresci a cavallo tra due mondi, da un mondo secolarizzato ad un mondo estremamente religioso, che è quello che ti viene parzialmente imposto dalla famiglia. Quindi è un film sulla ricerca dell'identità, cioè di capire esattamente tu come ragazzo, come futuro uomo, dove tu vuoi porti in relazione a tuo padre, in relazione alla religione, anche parzialmente in relazione alle donne. Grazie Francesco per quello che ci hai raccontato del tuo Brotherhood, Alice nella città, sezione Panorama Italia, e questo è Fred, Festival Insider.